Ma che cos'è il trattamento di fine rapporto? Allora il TFR, anche conosciuto come liquidazione, non è altro che un accantonamento che viene fatto dal datore di lavoro ogni anno per i propri dipendenti. Questo accantonamento è più o meno pari a una mensilità. A essere precisi è la retribuzione annua lorda del dipendente diviso 13,5. Poi devi sapere che questo trattamento di fine rapporto, questi accantonamenti, vengono ogni anno rivalutati. Questo perché ovviamente con il passare degli anni il trattamento di fine rapporto perderebbe per colpa dell'inflazione di potere di acquisto. Quindi per permetterti di avere una somma che ha sempre lo stesso valore ogni anno viene sempre rivalutato. Da ultimo devi sapere che puoi con una certa anzianità e per certe motivazioni anche chiedere un anticipo del TFR prima della fine del rapporto lavorativo. Vedi com'è facile imparare la contabilità in un minuto al giorno? Ciao, alla prossima!